È la seconda edizione di un evento importantissimo che ci muoviamo come sistema delle regioni italiane, presentando le diversità, le specificità, ma all'interno di un sistema. Anzi, proprio le diversità sono un valore aggiunto che dobbiamo presentare al mondo intero e percepire l'Italia come terra di opportunità per gli investimenti. Così Massimiliano Fedriga, nella duplice veste di governatore del Friuli Venezia Giulia e di presidente della conferenza delle regioni, questa mattina a Roma, nel corso della presentazione della seconda edizione di Selecting Italy. L'evento, organizzato dalla regione e dalla conferenza delle regioni e province autonome, si terrà a Trieste lunedì 8 e martedì 9 aprile e vedrà la partecipazione di numerosi ministri. Lunedì 8 aprile in particolare si alterneranno interventi istituzionali, tra cui quelli del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e del vice ministro del MIMIT Valentino Valentini. Martedì 9 aprile sono invece in calendario il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro degli esteri Antonio Tajani, il ministro delle imprese Adolfo Urso e il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Il Friuli Venezia Giulia è la sua vocazione internazionale, penso che lo collochi all'interno di una rete di dialogo internazionale fondamentale e vogliamo utilizzare la nostra regione per dare opportunità a tutto il sistema paese di entrare all'interno di questa rete. Grazie mille, grazie mille.